Di più in questo incontro, arriviamo forse stanche perché c'è stato tutto un progresso, sei unica, Raffaella un applauso e invece chiedo a Lia di rimanere perché inaspettatamente, non lo sa nessuno, lo sapevo solo io, Lia ci regala una sorpresa. Non ho provato nulla né con me stessa né con questa qui, volevo cantare un cantico diciamo Napolitano del Settecento che si intitola Pio Cartillo e provo che in questo testo ci sia tutto lo struggente amore, in questo caso di un uomo in fronte di una donna, ma che alla fine però l'averezza e il vaso, il vaso, daranno quindi il desiderio di morire nel senso di rivivere nel lavoro. Troppo amore e provate. Grazie. 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 Grazie.